Supponi che sei qui, ma non hai un corpo, che questo Satsang duri due ore o due millenni avrebbe importanza per te? Solo perché hai un corpo due ore? Felice, se non avessi un corpo, questo dura duemila anni. Qual è il problema? Quindi solo per via della tua fisicità il tempo esiste, non è così? Solo perché hai una struttura fisica il tempo esiste nella tua esperienza. Se non ci fosse alcun corpo fisico, cos'è il tempo per te? Lo stesso vale anche per lo spazio. Se non avessi un corpo, di che taglia di vestiti avresti bisogno? Meno? Solo perché c'è un corpo. Spazio, non è così? Se non avessi un corpo, quante persone potremmo avere per i Satsang in questa sala? C'è un limite, chiedo? No. Quindi solo perché sei identificato con la tua natura fisica, tempo e spazio sono una realtà per te, altrimenti entrambi non esisterebbero. Quindi è un concetto? Non è un concetto, è una realtà dell'esistenza. Possiamo farne esperienza? Di tutto ciò che è reale si può fare esperienza. Anche della falsità si può fare esperienza. Lo sai questo? Succede. In così tanti modi succede, non è così? Cose che non sono vere, sono vere nella tua mente. C'è un esempio classico. Nel Yoga Sutra stesso, lo stesso Patanjali usa questo esempio. Suppone che prendiamo una corda e te la tiriamo addosso, dicendo, serpente, all'improvviso tutto ciò che ti accadrebbe se un serpente atterrasse su di te, ti accadrà, sebbene sia solo una corda inanimata. Potresti anche morire di un attacco di cuore? Sì. Anche della falsità, di ciò che non esiste, puoi fare esperienza. Tale è la bellezza della creazione. Persino di ciò che non esiste puoi fare esperienza. Perché ti verrebbe negata la capacità di fare esperienza di ciò che esiste? Certamente puoi. È solo che devi staccarti un po' dal tuo intrattenimento personale. ciò che non esiste sta dominando adesso. Cose che non esistono nell'universo accadono nella tua mente e vanno in giro come se fossero realtà. Sono solo film fatti male che vanno avanti, tutto qui. Ciò che succede nella tua mente è semplicemente del brutto cinema, non è così? Non ben diretto. Quindi, a causa del tuo coinvolgimento con esso, questa domanda sorge. Possiamo fare esperienza della realtà? La realtà è l'unica cosa di cui puoi fare esperienza, non è così? Ma la creazione è così generosa che è disposta a farti fare l'esperienza anche di ciò che non esiste. Fantastico, non è così?